dedicato mercedes 9 pollici full touch android 10 recupero comandi al volante poi per le mercedes che hanno i sensori di parcheggio andiamo a recuperare anche i sensori di parcheggio poi abbiamo gestione audio e video tramite le usb adesso siamo in gestione audio possiamo gestire contenuti cartelle playlist molto semplice da usare dsp e poi insomma abbiamo il classico mondo android con tutte le app ricordiamo che anche apple carplay quindi chi ha un telefono apple carplay potrà gestirlo tranquillamente qui siamo sul play store dove ci sono tutti i contenuti delle app che potete scaricare certo è bello qui andiamo in gestione video e poi infine abbiamo retrocamera che abbiamo eseguito noi oppure per le macchine se hanno già una retrocamera di serie le recuperiamo tranquillamente abbiamo messo sia le linee guida fisse che mobili poi decidere al cliente se vuole escluderne una delle due e infine abbiamo il check sportelli ecco qua io vi ringrazio questo prodotto è presto il nostro shop un saluto a tutti voi